Ciao ragazzi, questo è un gioco che parla di Illuminati, non potete vedere, questi sono già iniziato da ieri, e questi sono per esempio qua, se dovevo controllare le aziende più grandi, questi sono gli uni, ecco qua, possiamo anche scegliere di cosa far parlare, quello verde ti fa parlare, ci aiuta, quello rosso no, quindi questo no, ci guardiamo, abbiamo più persone per noi, ma abbiamo i soldi, possiamo anche scegliere di quanto, eh, questa è la fake news, che direi cazzate, queste sono citturità, queste sono citturità, purattini presidenti, si può anche cambiare il clima, sembra che siamo Dio, non è vero, ma anche quello che vogliamo, facciamo caddo qui meglio, ma sì sì, come questa è stata si gela, non ho già detto il caldo, ma poi non è vero, scritto le fantasy, non c'è, senti, mi serve, non mi sono troppo qualcosa, non ho messo, ma io non diffondo queste voci, per non ho l'unora del giorno, a disposizione, qua, che cazzo ci può visitarsi, un po' cazzo, c'è 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 un po' cazzo, 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 c dobbiamo avere più persone in governo, questo è il governo, mi ha fermato il governo, con questa formazione di ispirazioni, cose false, terapia, e c'è un dinosauro, possiamo anche mettere se ci sono i fantasmi, ma la cazzata cosa è, divinati esistono, ma non puoi sapere questo, questo gioco parla di questo, soltanto così su questo, ok, cosa ci cambia la meraviglia, qua, il mondo di fondo è solo cazzabile, lo sai, quindi meglio non credere, quindi questo è, questa, no, non c'è odio, si deve cliccare qua, cantante, ecco, eh, 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 non facciamo così, eh, 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 così, questo è un suono, non c'è tanti, qua sono, sì, po' porco, sì, po' bevamo, che c'è, sono toccato questo, queste ma le dite, pulizia, ah, mi dispiace, ah, ma io non ho pagato il gioco, non ho, non ho pagato il gioco, non ho, potuto dite, proiettori, servati, inferenze, riquini, ah, mi ti ha detto, tipo e tutto sto, ci stiamo verso, judgment, questo è una suddittatura, una guia accen data, c'è quasi logica, te la veri nuova, lì n там tutto no, lì tutte le aziende hanno tanti domenica non si riuscirà a cererlo non ho mai progressi e anche senza danni e cosa yes senza danni perché qua ti dirò io i bombi noti quando forse tornare su quanto debba avere la pena qua perdi e vinciamo 10 minuti ma non sapete cosa si dice che esistono ma questo non c'è un gioco che noio e ciao ragazzi questo è un video di cercare o no ho solo questo che ho solo questo gioco e ciao ciao iscriviti al mio canale e fate iscriviti anche alla mia page facebook non sapete come si chiama il mio video c'è già il link vi farò anche se siete a mio canale lasciate un bel like iscriviti su tutti i nostri account no Ah un account e bye bye